Sono Fabrizio Rezzaghi, sono qua quest'oggi per condividere una soddisfazione che ho avuto. Qualche settimana fa, geronzolando sul web, ho trovato il sito della Carlike che mi proponeva trattamenti nanotecnologia, nel mio caso per la mia moto. Così ho contattato il Point più vicino a me e una settimana dopo mi hanno consegnato la moto. Io sono rimasto veramente soddisfatto e contento di questo trattamento che permette allo scorco e all'acqua mentre vai per strada, carattuali fango, acqua e detriti così, di scivolare. Non appiccica e proprio con una semplice sciacquata la moto torna nuova. Ringrazio vivamente quindi Carlike e ringrazio il Point, ai loro affiliati, per la professionalità che hanno avuto. Grazie a tutti.